In il frattempo il GASPA partecipato alla rivolta delle nuove? Quelli si, tutti e due io li ho fatti. Sia del 69? Quella del 69 e quella del 71 e noi ho demolito tutto quanto e che io volevo farti saltare la matricula per buttare via tutti i nervali. Comunque salivate sui tetti? Si, sui tetti si sono andati su chi voleva, andava e veniva. Ma partecipavano tutti? Invece quella del 71 Condorelli è andato via perché ha ammazzato lo svelo in una pizzeria. Ah è vero. Lui è andato su e si è andato. E' riuscito anche a scappare? Si si, lui è riuscito ad andare via. C'era anche Martino Zichitella che poi è diventato uno dei navi. Si, lui faceva le rapine che era una bella batteria anche insieme a Ugo Benassi. E poi è stato ucciso a Caccia di Gunio davanti a Monelli. Ah, per questioni interne. Eh, l'ho spiegato perché diceva che voleva ricattare giù a Racca. Voleva ricattare e far servire dei soldi e lui è cominciato io, quello accanto, quella e lì. Sì, ma dopo questa rivolta non c'erano stati tutti i trasferimenti? Botte e via. C'erano parte in Sardegna eravamo. Si, cioè prendevano tutti in fila. Botte e camminare. Con gli schiavettoni. E botte. Traghetto. E botte. Sardegna. E giù in Sardegna. E io dove sono andato a finire? Tempio e Alghero. Ah, Tempio e Alghero. E allora Alghero era di punizione. E lì sono incontrato e torna con Cavalero, anche lui. Cavalero lo conoscevi già prima? Sì, prima, sì. Cioè lui era una batteria... Sì, no, lui aveva la sua via. Se poi guardiamo, lui dice che è stato il primo rapinatore in Torino. E invece è cominciato prima io che lui. E di fatto lui mi diceva, dì, ma se sei il maestro, sei tu. E tu, io, lui, sempre, sempre. Tu sei il cervello, però, dà la memoria, te... Sempre, beh, c'è sempre il Piemontese lì a Porta Giù.